Abruzzo all'undicesimo posto nella graduatoria per regioni stilata da Lega Ambiente in materia di illegalità ambientale. I dati sono quelli contenuti nel rapporto Ecomafia 2022, riferiti alla situazione fotografata nell'anno precedente, ossia il 2021. Scorrendo il rapporto dell'Associazione di Tutela Ambientale, viene fuori come nella nostra regione i reati siano stati 1.105, le denunce 1.029, i sequestri 2.995. Tutte le voci vedono valori in discesa rispetto a quelli che erano stati messi in nero su bianco nel precedente rapporto Ecomafia e di Lega Ambiente. Infatti lo scorso anno, quindi il rapporto 2021 su dati 2020, in Abruzzo si erano verificati 1.211 reati a carattere ambientale, le denunce erano state 1.185 e i sequestri 430. Anche in quel caso, comunque, l'Abruzzo si attestava a metà della classifica per regioni. Tornando ai dati contenuti nel rapporto Ecomafia 2022, i reati a carattere ambientale contestati in Abruzzo pesano per il 3.6% del totale italiano. Per chiudere il quadro relativo alla nostra regione, gli illeciti amministrativi sono stati 3.405 con 2.101 sanzioni combinate. Grazie a tutti.